non c'è la categoria se non c'è eventualmente metti quattro chiacchiere cos'è questo suono bellissimo epilessia foto sensibile è un gioco dove si diventa epilettico non è giusto devo devo soltanto levarmi la musica su diso perché ogni estamente giocare a un horror con questa musica in sottofondo non è il top ecco non dà l'atmosfera giusto io avevo fatto qua un test di prova così vabbè andiamo su vuoto layers of fear oppure un'esperienza di merda e unica coinvolgenti cui ogni decisione potrà cambiare la storia come nella vita è effettivamente vero se io adesso decido di bannare capobranco delle agenti in realtà resterà bannato di ricordi che porti con te nelle ombre che esplori definiranno chi sei e se sei un coglione o meno allora io quando l'ho provato ragazzo il gioco ma tanto la gala però è il gioco perché c'è un giochino di merda non penso che il mio computer non lo legge categoria cambiata messo artemio artemio solo senza speranza ma grazie grazie ma persino per se c'è ancora un modo un modo per riportarlo indietro ma per riportare indietro ok scusa dove è il soggetto l'unica cosa preciosa che sempre desiderato o è un figlio o è la moglie però conoscendo che potrebbe anche rompere il cazzo dubito sia il figlio quindi secondo me c'è dubito sia la moglie vediamo quindi artemio è qua alla moglie quindi consuelo attenzione perché quasi c'è la tutta la narrazione di di artemio noi siamo in questo momento nei panni di artemio e questa è casa sua apriamo la porta questa fantastica casa con una decorazione incredibile il tempo negli horror è sempre una merda non sappiamo perché cosa incollare per i cani una lettera la preghiamo di smettere di importunare i nostri speciali vede vede vedi che tutto coincide per il contestamento di specie nocive e di addesternarsi alle ulteriori lettere inappropriate le comunico che mia madre è una donna bottana rispettabile e non reagisce bene a tali insinuazioni tutti i dipendenti che hanno visionato la sua casa hanno riportato che non c'era assolutamente un cazzo nessun segno di infestazione di roditori si roditori parla di artemio attenzione questa è la storia ufficiale per cui non si è deciso con ulteriori misure se non si spruzzano spray protettivo lo spray protettivo non serve ci vuole le armi buildate bene per una delle due casa di artemio c'è una lettera non ho toccato il laboratorio come mi aveva chiesto sebbene non riesca a immaginare il disordine che ci sia dentro inoltre se ci viene così tanto a quella stanza forse dovrebbe fare più attenzione dove lascia le chiavi li ho rimessi nel suo fincio buona giornata perfetto quindi questa porta presumo sia chiusa a chiave le chiavi sono in offence qualcuno sta palesemente pisciando infatti il cesso c'è la luce e luce può a chi le profilattici la la colpa la corporazione dei profilattici una protesi transitabile come diamo l'ho fatto sbagliare la lunghezza ma di che protesi stiamo parlando scusa e ha sbagliato la lunghezza perdona questa categoria cambiata siamo due coglioni non l'abbiamo visto a piano forte voglio suonare una canzone caputana suo padre lo so che non sono stato musicista questo sembra un ufficio magari troviamo le chiavi raga magari trovi ho trovato le chiavi raga e dico la cosa ma questo qui il mio personaggio se questo è il mio ufficio e io sono io questo è il mio personale quindi io c'ho una barba un pochino lasciata andare comunque un altro bigliettino cos'è cappuccetto rosso il lupo vede cappuccetto si mangia cappuccetto non si sa se il sangue o il rosso del cappuccio cappuccetto incula il lupo amare la nonna vero si della nonna capucetto si è trovato pure la nonna li rompeva i coglioni cappuccetto mangia pure lei e si mette il cappuccio la storia finisce qua cazzo di storia è scusa mi dispiace mi farò perdonare questa notte tutta dedicata a noi due rendiamo la speciale lo è promesso a allora dobbiamo dare in camera da letto ci sarà subito nostra moglie che si aspetta per forza perché quella lettera era un chiaro indizio che nostra moglie era pronta in camera mamma mia immaginate una casa con un quadro del team questi sono tutti parenti di artemi si è sbloccata madonna mia tomaseno buongiorgio nome del gioco layers of fear oppure questo è il solito riflesso ehi sto schiacciando dei vetri mi sono cagato e raggiunto un pittore di merda ma lo io non è arrivato si è bancata la casa stavo leggendo si inquadrando il coso si traduceva in italiano che non so un cazzo perdo più tempo degli altri perché però devo tornare indietro vabbè ma cambia sempre sta casa se io per andare al bagno cazzo devo fare gli indizi devo scoprire per andare a pesciare quadri di merda questo è un assassino che pugnala le spalle questo è una cosa 3 e 7 x cd x 5 bu mi sono spaventante bro vabbè allora ritorniamo di noventi no 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 cos'è hanno il piacere di invitarvi al celebre il loro matrimonio sabato 9 giugno nella cappella di artemio suona male lo so suona male una sound alert del oh ci sono le candele vedo dei numeri ok 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 8 5 4 8 5 4 8 5 4 godo 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 apri cos'è il solo pensiero che l'opera d'arte più bella non abbia il mio nome mi sposerai ma anche no se poi se me lo dici così no c'è artemio non sei il mio tipo dai parliamoci chiaro è un marito disperato e poi c'è un'altra porta prima non c'era è un marito disperato ragazzi è lasciato con o è stato lasciato perché pensava sempre al suo lavoro infatti vedi gli occhiali questo classico artemio perciò mi hanno mia moglie ha deciso di fare poi con la zia una cosa 3 come si vede in questo in questo quadro e se n'è andata questa storia è semplice mai dimenticare mai dimenticare il rapporto a tre che hanno avuto con l'idraulico hai piccato il ca il il naso nel mio laboratorio ancora per l'ultima volta non ti è permesso entrarci anche se la porta è aperta te lo proibisco la prossima volta dovrei cercarti un nuovo lavoro vabbè la roba di coglia aspetta prima che vada un attimo perché c'è un bambino io mi sono madonna mi sono cagato aspetta no no qua no qua non va bene non c'era una torcia divi che sono nato ma non è quadro di merda sembra che ti guardano le cose scende aspetta sei brutto brutto in culo spazzo aggiungere aspetta con calma do un bacino grazie qui fammi controllare bene amore mio sebbene tu non abbia il pene lungo posso già sentire la tua presenza che questa è andata precisa è semplicemente fantastico mi scriveva l'idraulico o un marito amorevole me c'è ma che start così io sono la rotta di scorta o il marito la rotta di scorta è assurdo vero come le storie si intreccia io ero caduto lì e non era quel qua ehi e qua artemio un suelo giuli bugie sommerse da pittura ma è tutto storto ok solo un pochino più a sinistra si proprio così ma cosa curve favolose aspetta cosa cazzo fai sei un porco sei un porco lei un maniaco cosa voleva fare con questo foglio topino di quadri cosa rappresenta c'è una mano ti per dimmi che non esce qualcosa da quel quadro perché sarebbe un gioco io non mi voglio girare mi giro mamma mia ma dei libri mia moglie che piange io sono l'idraulico li aggiusto il tubo ciao dovremmo parlare perché ho una spazzola è la mia arma visto così tanto in casa mia mentre spengo il ventilatore sto con giovane e io perché ho la sua spazzola devo spazzolarle i pipelli sono l'idraulico cerco di collegare i punti cerco di capire dov'è il problema questo è chiuso allora lei piange io sono un cazzo di idraulico che ogni tanto mi metto a fare l'artista e sto appena per osservare un falco che rapisce un culo c'è questa è la mia vita questa ragia ah questo è i miei piccoli per non mi fettare i nostri porco del molesto bastardo a noi vale scusami molesti minchia ora si incazzano non sapevo io perché sto schiaccio tipo merda hai bagnato mate bello mio grazie per i centovittoni sei l'unico che non li manda tramite peng sound alert e cazzi incredibile grazie ok siamo in cucina io schiaccio merda ah no ma c'è ok vabbè non è ancora pronto ho una zucchina ho paura di usarla prendila papà papà lei ha tirato raga mi ha sfiorato un col l'avete visto per quel frame dai l'avete visto ma i quadri sono vivi no aspetta raga sta cosa è brutta perché se i quadri sono vivi allora raga se i quadri sono vivi è un giocone perché perché questo quadro rappresentava un cesto di frutta tipo che è appena caduta quindi quei quadri dove ci sono gli sgorbi potrebbero essere vivi anche no e questo cosa cazzo è per prima ho cercato una tela non una tela qualsiasi ma non è una tela raga a me sembra pelle dovevo trovare un coltello uno di quelli da cucina ho tolto la pelle eh non era tela si chiamano persone l'alcol mi aiutava a tenere le mani ferme ma io sono proprio un bazzo scatenato praticamente pingo ma io non uso i colori uso le patate praticamente quindi odio anche adesso perso te lo meriti finiscilo ma che cosa gli ho alitato gli ho alitato io dipingo così cos'è sly porca puttana molesto dimmi per prima cosa ho cercato una tela ah non una tela ok ah vabbè ma sono tipo gli obiettivi di quello che prendo gli indizi prima l'inizio il piano forte la stanza dei bambini anzi meglio che non c'è la stanza dei bambini salgo o scendo non so come funzionano queste cose ma non posso solo vabbè sto salendo sbaglio non funziona un cazzo non funziona un cazzo dirlo prima no deve funzionare allora ah ma devo chiudere forse chiudi ah ma lo sei intelligente giustamente il gioco ti avvisa per la sicurezza non ti fermare qua bravo vai vai sopra che sarà sicuramente più più bello Maria fin quando non ci sono quadri non ci sono gente che ti inculla alla fine si può anche stare dai no c'è tutto chiuso ho una chiave e greggio signore per quanto io comprenda che lei sia masturbato si senta masturbato per la situazione di sua moglie ovviamente l'idraulico per quanta compassione ho Io provi per questo, capito, no? Suona il quadro Perché ti sei fermata? La melodia era perfetta Adesso a mia moglie suonava Non io Io sparava minchiata nella vita E questa l'ho sbloccata adesso Non ce ne sono Anche no Sono librerie, mamma mia che brutta Hanno scorreggiato dentro qua Ma c'è un fuoco accesso E hanno peritato nel falò Forse per alimentare le piame Si apre allora, scusa Ma io non ci vado Sta crollando tutto, vado di qua No, no, vado nel fuoco Piuttosto, brucerò negli inferi Perché c'è una foto di me con mia moglie O l'idraulico, non lo possiamo sapere Magari è l'idraulico Perché io non Vai a fare in culo, bimbo di merda Sì, ma basta, basta Io voglio andarmene Voglio andare a casa mia Perché questa è aperta La trappola per Artemio Questa devono aggiungere su Warzone Non la granata esca Ettera Segnali di allarme Perché queste allarme Una raccolta Comuni sintomi di schizofrenia Eh beh, io lo so Infatti cosa vi dicevo prima Il mio personaggio comunque non è preciso Inespressività Sguardo perso nel vuoto Movimenti facciali involontario Quindi ogni tanto di primo personaggio Sapenti Tipo cose del genere Insonnia Non l'ho notato De-personizza De-personalizzazione Che diavolo segni Bravo Minchia Manco io lo sapevo È un genio Il gioco fatto per me questo Deci Ma è decimai Utopo Artemio Seguiamo Artemio Le tracce Ma di nuovo Sta stanza di merda Ho fatto 26.000 piani Di ascensore Dovrebbe essere comunque un segnale Oh Ho visto il cazzo Perché cade del legno Che è il tetto in mattone Perché Ciao Technics Benvenuti in queste comunità Non può essere cancellato Ma cosa Perché giro il mondo Perché non ho un riflesso in questo aspetto Non può essere cancellato Mamma mia Di passaggi Di nuovo i passaggi Un cane? Ehi Ehi Acco C'è che sei Bravo Brucia Il cane No Dai No No Vaffanculo Tesoro Ricordi quando hai detto che sarebbe La dai Vodun Non è filmato Ho comprato un cane Se vedete questi suoni aggiunti a caso Ci colpano i ragazzi su Discord Mamma mia Ma che casa di merda Cioè se io Ora Ho la Spensierata idea Di andare a farvi una cagata al cesso Dove vado? Vado di qua Non la disturbo più di tanto Ah va dai No No Devo Devo baciarti? Ma io lo so che se mi giro accade qualcosa Io lo so Il suo padre È scuso Durante Le cose Porca puttana Artemio 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 ti ho visto Artemio Artemio sei qua? Artemio me ne frega Porco dio Minchia questa è una trappola Una trappola mortale Artemio Porca puttana Artemio ti chiedo scusa Ma me ne vado Vabbè Aprendo Ho un'informazione Ma io lì Cioè come le sto accendendo Stai Una chia Beh Ma chi è Va domino Grazie a voi No 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 Riaccendi Vaffanculo Va bene Si stila come Oh Caputana Basta Occupato Ho detto Occupato Hai rotto il cazzo Va bene Ti puoi aprire Non posso aprirti Vorrei ma non posso Buttiglia di vino Tira c'è una bottiglia di vino No Non posso fare niente Me ne vado Spengo le luci Così non mi vede Non si possono spegnere Mi metto sotto il letto Entra sotto il letto Vabbè va Mi arrendo Dai Si è aperta Questa scia di Di sperma Dove va Ah Sapevo che tu C'entravi qualcosa Oh Questa casa Questa casa è assolutamente Fantastica Ma tu ti fai Di droghe pesanti Ma infatti Io sono zoppo Ragazzi Quindi il bastone È il mio Se voi fate caso All'audio dei passi Del personaggio Io sono zoppo Guardate Ah ma questo era il quadro C'era la tromba Con il cosmo Con il Io non ho un riflesso Ma la camera da letto Non c'era la moglie Che mi aspettava Il camera Mamma Sta squagliando La porta Mamma Se infraricere Il mura E' un cazzo Di dopo Un barattolo E' un tubetto Di plastica Avrò travasato Benzina In passato Ha bruciato La casa Sto coglione Perché ero Ho inserito Un tubicino In una vena Il sapore di rame Mi ha prestabilità Perché sei malattia Porca puttana L'abbiamo già fatto Ah era il piede La protesi Ok Ladri di protesi Incazziabili Bastardi Non posso permettermi Un'altra Perché Le ho fottute gambe Ecco perché sono zoppo Io non ho una gamba Non è che sono zoppo Sono senza gamba Me ne vado Ok se l'abbiamo fatta No Devo dipingere Di nuovo Poi abbiamo trovato Altri indizi Diping L'obiettivo del gioco Sarebbe comporre sto quadro In teoria Forse Praticamente io usavo La pelle Il sangue Come colore Quindi questo qui Non è il colore rosso Ma è proprio sangue Le foto che ho trovato Io ho trovato Vedi L'idraulico Con mia moglie L'idraulico Con mia moglie Che si sono sposati E basta Pio mi pare Solo queste due Arrivato E vabbè Va bene ragazzi Dai Io direi che per questa notte Possiamo concludere qua Per oggi È tutto Un saluto Dal vostro Adam Cadman Che a casa di merda C'è stato un mix Tra gli effetti Del gioco e molesto Incredibile Un'unione incredibile Va bene Prossima Penso siamo arrivati Comunque qua Dobbiamo entrare Su questa casa Che è comunque Invitante sta porta Ragazzi E si vede che dentro C'è Godzilla Hanno preso Le giuste precauzioni Mi metto in questo Tappettino qua Signori miei Noi Ci salutiamo Per oggi Dai Grazie di tutto Buonanotte Ecco Abbiamo la musica